Abbiamo fatto le lettere, ora facciamo i numeri! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Nuovo video, nuova puntata del corso di hand lettering, brush lettering, calligrafia moderna, bellagrafia, chiamatela come volete Ma basta che abbiate un taccuino e prendiate un bel pennello per scrivere i numeri insieme a me Oggi impariamo i numeri in due caratteri Il numero in, sarebbe corsivo, ed il numero un po' più semplice, un po' più stampatellato Quindi due modi semplici per scrivere i numeri in bellagrafia Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa Ed eccoci pronti per scrivere i numeri con la hand lettering, quindi con la brush lettering, con la calligrafia moderna Chiamatela come volete, è sempre quella è Avremo bisogno la matita, un acquerello o un brush pen, io sto usando appunto una brush pen della Penter E poi invece una penna per calligrafia, queste con la punta in feltro pieghevole come fosse un pennello Danno tre effetti differenti ovviamente per tre tipi di calligrafia differenti Potete usare la penna, potete usare quello che volete Potete usare i semplici pennarelli, colori, quelli a spirito per intenderci Insomma, quello che volete Oggi c'è una novità che vi introduco Nel 2018 collaboreremo, Arte per te collaborerà con la Hanemule La collaborazione non costa di un pagamento da parte di Hanemule nei confronti miei e del canale Ma semplicemente mi fornirà delle carte da provare per i nostri progetti E oggi sto provando per la prima volta con voi un blocco da hand lettering È la prima volta che vedo una carta specifica per hand lettering e sono molto curiosa di provarla Proverò varie carte della Hanemule e poi vi farò dei video in cui ve li recensirò in maniera approfondita In maniera da avere un'idea chiara sul blocco Se spenderci soldi oppure no Se è un blocco creativo che vale la pena avere oppure no Insomma, Hanemule la conosciamo tutti come marca di carta Dal 1584 fornisce carta ed è una garanzia Però dalla garanzia ad avere la necessità o essere il caso di comprare un blocco ne passa Quindi adesso poi la proverò, oggi la proverò con voi Poi ve la recensirò in un video in cui vi farò vedere più carte di questo fantastico brand Detto ciò, oggi non parliamo di Hanemule ma parliamo dei numeri I numeri che impariamo a fare sin da piccoli Andremo a scrivere insieme Allora, vi dico che per i numeri la situazione è la medesima In salita si va a contratto sottile In discesa si va a contratto grosso Esattamente come abbiamo visto fare per tutti, tutti gli alfabeti Quindi, cominciamo subito e andiamo Allora, lo zero ovviamente è come una O Quindi si scende grosso e si sale sottile Non c'è nessun ghirigoro nei numeri Si chiude semplicemente e basta Quindi, si scende E quindi poi si sale Uno e due Il numero uno Partiamo dall'esterno sottile E scendiamo spessi Quindi, saliamo Scendiamo Orizzontale Uno Due E tre Adesso Sta al due Il due sale sottile Fa la curva Scende spesso Sale e riscende Quindi scende grosso Sale sottile Sale e riscende E risale Il tre Orizzontalmente sottile Scende grosso Sale sottile Scende grosso E sale sottile Il quattro Ci sono varie tipologie di quattro Io faccio quello senza Non quello a triangolo Quindi quello che sale sottile Scende grosso Io faccio direttamente Uno Due Tre Se no Sennò l'altro quattro Dovrebbe avere questa Che sale sottile Il cinque Sottile Grosso Sottile Grosso Sottile Il sei Grosso Poi salgo sottile Scendo più grosso Il sette Il sette Sottile Grosso Sottile Grosso Sottile L'otto Sottile Grosso Sottile E il nove Grosso Sottile Chiudo E scendo grosso Per salire sottile Voilà I numeri Tutti fatti Ovviamente ci sono Duemila Varianti Adesso passiamo A un secondo modo Più semplice E allora Uno Uno Due Tre Facciamo l'altro Questo punto Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Questa carta è molto interessante Ragazzi Non so se sentite il rumore Che fa mentre scrivete Questo rumore Ha una particolarità Fa questo rumore Perché la carta Ha una particolarità Fantastica Facciamo insieme I movimenti Allora Dello zero Si scende E si sale Dell'uno Normalmente Il due Si parte Da qui Quindi Uno In discesa In discesa In salita Tre Io disegno Le variazioni Di spessore In discesa Quattro In salita Cinque In discesa Quindi Grosso Piccolo Grosso Due Tre Quattro E cinque Poi Uno Due Tre Uno Due Sottile Grosso Tre Sottile Quattro Grosso Cinque Sottile Uno Grosso Due Sottile Tre Grosso Uno Parte Sottile Due Scende Grosso Tre Risale Sottile Quattro Scende Grosso Cinque Asticella Sottile Uno Sottile Due Grosso Tre Sottile Uno Grosso Due Sottile Tre Grosso Quattro Sottile Ok Questi Come quelli Senza Fronzoli Cambiando i Rigori Cambia tutto Perché Guardiamo il Due Che parte Grosso E sale Sottile Questo Invece Direttamente Un Uno Che sale Sottile Un Due Che scende Grosso E un Tre Che va Sottile L'Uno È fatto Solo Da Un Gesto Uno Il Tre Rimane Pressoché Invariato Però È fatto In Uno Due Tre Quattro Tempi E Via Riscorrendo Oggi Con i Numeri Ci Fermiamo Qua Allenatevi 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 Sono Cose Semplici Da fare Però Serve Un po' Di Allenamento E Un po' Di Concentrazione Bene Vi Parlerò Prestissimo Di Questa Carta Che Ho Trovato Una Fantastica Alleata Non so Se Avete Notato Non si è Sporcata Per Niente E Qui Colore Ce N'è Stato Parecchio Buttato Guardate Io La Mano Me La Sono Sporcata Ma La Carta Non Si E Sporcata Me Ne Devo Parlare Necessariamente Quindi Noi Vi Lascio Le Foto E Noi Ci Vediamo Al Prossimo Video Ciao E Allenatevi Con I Numeri Visto Molto Semplice Allenatevi Perché Molto Presto Arriveranno Altri Due Font Per Scrivere I Numeri Di Una Avete Visto Già L'anteprima Sul Mio Instagram Arte Per Te Anzi Se Non Mi Seguite Su Instagram Venitemi A Cercare Vi Lascio Il Link Qua Sotto Perché Lì Do Le Anteprime Dei Video Vi Faccio Vedere Cosa Sto Preparando Per Voi E Quindi Vi Aspetto Tutti A Braccia Aperte Se Questo Video Vi E Piaciuto Numeratevi Un bel Pollice In Su E Condividetelo Sulle Vostre Pagine Facebook E Soprattutto Venitemi A Trovare Sui Mie Altri Canali Due Cuore Una Cappa Il Mio Canale Di Cucina Ombretta Il Conoscerli Perché Molto Spesso Nei Biglietti Nelle Composizioni Di Brush Lettering La Numerazione È Molto Importante Basta Cianciare Vi Lascio Libere Di Andare Ad Esercitarvi Noi Ci Incontriamo Sempre Qua Per Il Prossimo Video Da